Rappresento di GAL Colline Moliniche del Garda, che raggruppa 6 comuni mantovani che sono l'immediato d'oltroterra rispetto a Desenzano e Sirmione. Siamo un GAL giovane, nel senso che questa è la prima esperienza, siamo partiti operativamente da circa un anno e adesso stiamo attivando le 5 misure che costituivano il nostro piano di sviluppo locale. 5 misure che per lo più sono rivolte non tanto a singole imprese per investimenti, ma piuttosto a interventi più collegati al turismo integrato, al recupero dei beni culturali e architettonici e in particolare poi all'emergenza energetica. Le difficoltà quando il GAL è partito, sono state quelle che immagino siano caratteristiche di tutti i GAL, nel senso che è stato quello di riuscire a mettere insieme una serie di soggetti poco abituati a lavorare insieme, anzi alcuni dei quali si vedevano in termini più di concorrenza che non di sinergia. Comunque la fase poi è stata superata e oggi credo che ci sia un livello soddisfacente di collaborazione fra tutti i soggetti. Il ruolo principale è giocato dai 6 comuni che costituiscono il GAL, i quali esprimono i loro sindaci tutti e 6 nell'ambito del corso dell'amministrazione. L'idea portante del nostro piano di sviluppo locale è legato, come dicevo prima, da un lato all'aspetto del turismo integrato, ovviamente avendo un bacino turistico eccezionale come il Lago di Garda a 3 km con le sue 7 milioni di presenze anni di turisti, quindi vi lascio immaginare questo cosa voglio dire per i prodotti non gastronomici della nostra area e da un lato quindi questo e dall'altro il problema energetico. E qui vale la pena fare una precisazione brevissima, sulle colline non c'è acqua, siccome serve un sistema di irrigazione molto avanzato per il tipo di produzioni che ci sono, vite, olio eccetera, tutta l'acqua viene impompata dal livello pianura e quindi ci sono dei costi energetici straordinari. Il regare un ettano in collina costa circa 4 volte la stessa area da regare in pianura, per cui buona parte del piano è stata predisposta per affrontare il problema da due punti di vista, uno interventi diretti sulle imprese che migliorano i loro sistemi di irrigazione, in particolare che abbandonano il sistema a pioggia per andare a quello a goccia, l'altro è stato quello di un forte intervento nei confronti del consorzio di bonifica dei colli morenici perché migliori a sua volta i propri impianti, perché migliori il proprio governo del territorio dal punto di vista idraulico e in questo senso si ha la presunzione di poter areare ad un abbattimento di circa un milione e mezzo l'anno di costi energetici per interare, questo ci sembra comunque il dato essenziale. Per avere questo ovviamente si ricorre a interventi di animazione, il principale l'abbiamo in corso in questo momento, siccome sono partiti i bandi di cui parlavo prima in materia di risparmio idrico, abbiamo accompagnato il bando con un incarico dato ad una università di studiare il problema dal punto di vista sia tecnico di quale sia la migliore forma di irrigazione per ogni tipo di produzione e dall'altro anche che fornisca alle singole aziende interessate un piano di compatibilità economica con il bilancio dell'azienda, per cui stiamo andando in giro a presentare le risultanze di questo studio e quindi anche una sorta di consulenza sul campo che si fa alle aziende e tutto questo è stato preceduto da una lettera che abbiamo fatto a tutte le 1100 imprese agricole del territorio che anticipava questa azione di animazione. dal punto di vista della rete, certamente come Gal Nuovo quello che in questo momento ci manca perché poi la quotidianità fa sì che ci sia poco tempo anche per riflettere su questi aspetti è sicuramente il capire cosa ci viene intorno, perché voglio dire noi possiamo poi immaginare le cose più belle per la nostra area, poi magari scopriamo che se avessimo dato un'occhiata oltre la nostra area, potevamo fare le stesse cose spremiando metà tempo perché qualcun altro magari ha avuto le stesse esigenze e ha dato risposte simili alle nostre. Quindi quello che in sostanza sicuramente serve è un tipo di raccordo che in qualche modo ci consente di valutare in presenza di nostre iniziative di peso, ci consente di valutare cosa è stato fatto al riguardo da altre parti, dove possiamo imparare per migliorare e magari a nostra volta poi mettere a disposizione quello che abbiamo fatto perché qualcun altro possa altrettanto influirne.